Ha consegnato un memoriale al proprio avvocato, nel quale avrebbe confessato di aver ucciso Maria Aparecida Venanzio De Sousa, la prostituta sessantenne, trovata morta nel suo appartamento di Via della Robbia ad Arezzo il 26 agosto 2019. L'uomo, 38enne imprenditore agroalimentare Federico Ferrini, nello stesso documento avrebbe chiesto scusa alla sua famiglia per quanto fatto e per il dolore provocato. Il 38enne ha affrontato l'udienza preliminare in videoconferenza durante la quale il giudice Giulia Soldini ha accordato la richiesta del legale, Jonathan Giannini, di procedere con rito abbreviato, condizionato alla presentazione di una relazione del dirigente del carcere. Dopo la costituzione di parte civile da parte dell'ex marito e dei familiari della vittima, è stata fissata la data della prossima udienza, per il 7 maggio. Federico Ferrini è accusato di omicidio volontario. Nel documento che ha consegnato all'avvocato, il 38enne avrebbe anche spiegato che il delitto fu motivato dalla paura che la donna rovinasse, diffondendo la sua relazione con lei, la sua reputazione e quella della sua famiglia. Il memoriale sarà consegnato al giudice a inizio processo.